Conoscete la signora Amanda the Adventurer? In questo periodo sta diventando super popolare lei Sto cercando di capire perché... Ah, queste sono le nuove versioni, beh, ovviamente scaricherò l'ultima Bene, 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 e ce l'abbiamo Allora, cercheremo di sbloccare dei finali un po' diversi Infatti dovrò cercare Allora, per chi non la conoscesse, lei è Amanda E dice, eh, io amo le mele E ovviamente scrivo, no, non mi piacciono E lui dice, eh, sono allergico alle mele Ma nessun problema, va sempre bene provare qualcosa di nuovo, dice Amanda Ma tutto bene, Amanda, guarda che non si può mangiare Insomma, se hai l'allergia alle mele Assolutamente voi non fatelo, ovviamente, se avete qualche allergia non mangiate le cose di cui siete allergici E dice, beh, seleziona il negozio, sarebbe questo qua, ma ovviamente non lo faccio Selezionerò tipo questo Vedete, si sta arrabbiando Ok, ora si vede anche meglio, e ovviamente non glielo dico ancora E dice, sai dove è lo store? Cioè, il negozio Vedete, non posso più cliccare niente E tipo, la pecora è spaventata E c'è il motivo per cui è così spaventata la pecora Lei non voleva stare qua con Amanda Infatti, mi sa che lo bullizza Dice, sì, questo è proprio la store Dice, hey, puoi dire mele Ehm, no Wow, wow, wow Ah, mi ha obbligato Stavo scrivendo cose a caso Dice, buon lavoro Ok, ehm, è successo qualcosa qua sullo schermo Non so se effettivamente era apparso qualcosa di particolare, no? Tipo, ma guardate qua, c'è un quadro alla sinistra Eccolo qua, vedete, c'è un quadro Un po' inquietante se posso dire la mia Sentite Dice, dice che non abbiamo tanto tempo Ha detto, non, tu, non, non, non far qualcosa E questo? Beh, dice dove è la carne Ma se io metto questo? Si è un po' arrabbiata, eh Dice, sì, proprio lì, andiamo Allora, qua sta succedendo qualcosa di brutto Dice, ecco, vedi, avete visto che aveva fatto qualcosa Allora, però se io scrivo tipo Willy Era tipo Willy, vero, che si chiama? Ok, me, sarebbe Meat Dovrei scrivere, oh no Oddio, si è arrabbiata Ok, Meat Madonna, che spavento Cosa sta facendo? Signore, mi raccomando Solo carne, però, selezionata dai migliori Cioè, capito, dai migliori allevamenti E soprattutto, mi raccomando, con un impatto ecologico importante Cioè, nel senso Deve, deve rappresentare Ecco, guardate Amanda cosa sta facendo Si sta arrabbiando E se l'è presa con Willy, la povera pecora O come Casper si chiama Credo Infatti, nell'episodio 3 della cassetta Se vedete Succederà qualcosa di non proprio divertente Adesso vi faccio vedere Perché effettivamente Fa proprio caga questo gioco Ma proprio tanta Willy è diventato un cervello In basso Se vedete, in basso a destra Dice, andiamo a casa No, io volevo però vedere dove stava Willy Perché qua è rimasto solamente un cervello Però Questa Casa Guardate Guardate che faccia Ah, casa Ok, è sparita Oh no Ha detto Clicca la casa Ok, cliccherò la casa Oh santo cielo Dice Bussa la porta Non voglio andare dentro Amanda Dice Lasciami entrare Allora, praticamente è un demone Amanda In fondo Cioè nel senso Tipo indemoniata E infatti Porco due Dor No Abbiamo da provare altri livelli Con la povera pecora Che ovviamente è spaventata da Amanda Povera pecora Veramente Così bullizzata Che brutta fine che fa Però mi sa Allora, c'era un finale segreto Dove praticamente Willy diceva Basta Non ne posso più di Amanda Non fare quello che ti dice E tipo Amanda Sei nervosiva Adesso vi faccio vedere Tecnicamente Ora possiamo far arrabbiare davvero Amanda Se ho capito come si fa Allora, praticamente Devo scrivere a questo store qua Che pre... Lamb Una parola Che si chiama Lamb Sì Willy Ho capito Sei preoccupato Non possiamo fare Determinate cose E tu sei Amanda Ciao Amanda Come stai? Tutto bene? Dai Sferissi E dice Eh, la nonna è vegetariana? Eh, no Assolutamente Eh, carnivora La nonna Vuole la carne Però Non la carne normale Ma bensì la carne di Lamb Infatti Scusa scrivere Lamb Ok, puoi dire al signore Cosa ci serve? L-A-M-B Eh, eh, l-A-M-B Si è arrabbiata L-A-M-B È giusto Eccolo Ragazzi C'è una cosa diversa Adesso C'è la tape Si chiama Cioè tape Praticamente Non sappiamo che numero Cioè praticamente La cassetta Tipo Senza Senza nome Dicei La mappa del tesore È in mezzo Al coso E poi Willy ovviamente Tipo Puoi trovare Dove la X Beh Questa Eh, 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 eh Questo Ragazzi Mi sto spaventando Praticamente Ha detto Dobbiamo trovare La mappa del tesoro E ovviamente Avete visto Lui non riusciva Nemmeno a rispondere Infatti ha detto Ho detto bene Willy Con una voce Molto inquietante Beh Ebbene Ecco Ci sta aspettando Il tesoro E dice Come possiamo Andare lì Beh Oh mio dio È bruttissimo Perché E dice Cosa dovremmo utilizzare Per prendere Beh Ovviamente La Shovel No E dice Ok Questa Basta Non mi interessa Cosa mi fai E dice Adesso la capra parla Eh Dice Oh dio Brucia Brucia tutto Brucia queste cose Brucia le cassette E guardate Mamma Mio dio Ragazzi Ah Basta Mi prego Non voglio più giocare Ad Amanda Oh mio dio Che brutta Avete visto È così Quando si arrabbia Ehi Qua sta nella foresta Se vedete Non si vede Una beata Però Sta nella foresta Ok Tranquilli Tranquilli Mi raccomando Confortatemi Nei commenti Ha trovato questa cosa Adesso dice Adesso sta bruciando Le cassette Vedete Eccola La tape La sta bruciando Questa cassetta qua Però tecnicamente Non può bruciarla Infatti Perché Io mi sono già Informato molto Su internet Perché Mi interessa molto Questo segreto Non può bruciarla Che succede E perché fa così Eh Ok Fire Ok Burn Sentite Ehm Wow 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 Ah raga Ma che caspita Sta succedendo Non sto capendo Ma perché sta facendo così Watch Perché watch Ok Vabbè Non è riuscito A bruciarla Perché il demon Ovviamente Non gliel'ha fatto fare Questi demoni malandrini Che cercano di impossessarsi Dalle cassette Che non vogliono farle bruciare Ovviamente Il signore cosa fa Se ne ritorna Via Tecnicamente Dice Sì ho bruciato tutto Ma in realtà Non è vero Era semplicemente Che si è impossessato Di lui Il demone Alla fine Sì ho trovato il posto È stato solamente Un posto in mezzo alla foresta Che che mi ha seguito Dice Dice No no Non c'era nessuno C'era solo io Sì 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 Adesso sono tutte distrutte Le cassette Ha detto Tutte distrutte Ma non è vero Che non è vero Dice sta diventando tardi Devo andare a casa E quindi E quindi praticamente Si suppone che il demone Abbia preso possesso Di questo ragazzo Perché non è riuscito A bruciare le cassette In un qualche modo Avrebbe dovuto Farlo in un qualche modo Vediamo un attimo Se io scrivo poi Alla fine death Mi pare che Se tu scrivi death Alla fine Tecnicamente Ti dovrebbe dare Un'altra cassetta Quindi allora Facciamo così Questa è sempre Amanda Tutta quanta inervosita Dice è tutto buio Fuori Andiamo a casa Dice Ehi Fai Clock clock Alla porta Allora io Adesso scriverò Death Ok allora Ok vabbè Fa così Molto brutta Madonna santa Raga Death 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 No Ti prego Non so se ho fatto bene Raga Però ho stra paura Ok è finito Allora 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 Tecnicamente Di questi aggiornamenti Di questo gioco Nescono sempre molti E la community E la community è molto attiva Cioè nel senso Siamo in molti Appassionati di questo Di questo gioco Anch'io sono stra appassionato Di questo gioco Perché raga Cioè nel senso È una cosa piccola Ma è un'innovazione Assurda no Cioè a me piace molto Chissà che poi Magara Magara si Amanda Non ci trovi In giro Mi raccomando Potrebbero uscire Altri video di Amanda Dove io Le parlo su Instagram Potrebbe darsi Che poi adesso Amanda mi si presenta Qua davanti E mi ammazza Cioè capito Non vorrei dire Però Sono felice per questo nuovo gioco Scrivete cosa ne pensate Nei commenti Se vi piace Amanda Oppure no Ricordate di fare La cosa Che vi protegge No La benedizione Delle tre cose Iscrivervi Lasciare like E commentare Con Amanda Nei commenti E al prossimo video